Grazie per... aiuto, che succede? Pronto? Va bene? Ok, allora io sono Amalia De Simone, vi do una notizia cattiva e una buona. La notizia cattiva è che Fiorenza Sardani non c'è, perché ha avuto un impegno, insomma, abbastanza... non poteva, non poteva, insomma, evitare di essere, diciamo, in tribunale stamattina e quindi non può esserci oggi. Domani però farà un salto al festival, non so bene in quale panel sarà inserita, però eventualmente per chi fosse interessato comunque a incrociarla, domani ci sarà questa possibilità. La notizia buona è che abbiamo la collega Vittoria Iacovella di Lasette, che come me fa un tipo di giornalismo prevalentemente di inchiesta e soprattutto lo fa a 360 gradi, scrive le sue storie, coltiva le fonti e gira con la telecamera i suoi lavori e li monta anche, quindi cura tutte le fasi della produzione. E siccome l'idea fin dall'inizio che aveva avuto anche Fiorenza era quella di gestire questo workshop in modo che, senza voler fare nessuna lezione in Cina, nessuno perché non siamo in grado, chiaramente, ma invece di mettere a disposizione un pochettino di esperienza, un po' di percorsi e condividerli con voi, che credo la maggior parte faccia lo stesso nostro mestiere, oggi pensavamo di dare un po' di input pratici che riguardano il giornalismo d'inchiesta. Innanzitutto, il giornalismo d'inchiesta, almeno per come lo vedo io, per quella che è la mia esperienza, ma credo che si basa sulla produzione di notizie inedite o trattate in maniera inedita, oppure notizie che, diciamo, hanno avuto già una loro diffusione ma che magari in cui c'erano dei risvolti da approfondire che approfonditi potevano avere magari una rilevanza addirittura superiore rispetto alla notizia stessa. Prima di passare a un esempio rispetto a queste cose qui, che forse può essere chiarificatore, io vorrei dire che quindi alla base di tutto ci sono le notizie e siccome al giorno d'oggi la maggior parte di quelli che lavorano nell'informazione e portano le notizie e scrivono per i giornali, sono giornalisti freelance o precari, io vi dico, soprattutto sulla base della mia esperienza, che le notizie vi salveranno. Perché in un panorama in cui i giornali sono bene o male omologati e non scopriamo l'acqua calda nel momento in cui diciamo una cosa del genere, trattano più o meno tutti le stesse cose, nel momento in cui c'è una notizia che altri non hanno, difficilmente troverete qualcuno che dice no, non la voglio, non me la voglio comprare, non la voglio pubblicare. Esatto. Perché? E anche perché i colleghi molto spesso sono fermi, bloccati dentro le redazioni. Esatto. Soprattutto perché le notizie, le inchieste, producono, macinano soldi. Questo ve lo posso assicurare, io lavoro per il Corriere.it, realizzo le videoinchieste e le videoinchieste hanno un'utenza straordinaria. Quindi eventualmente alle società editoriali aiutano a vendere pubblicità, fanno traffico e purtroppo insomma se uno vuole fare i conti della serva e rapportarsi con gli editori questo è un aspetto che assolutamente va tenuto in considerazione. Poi chiaramente per quanto ci riguarda è chiaro anche che uno fa giornalismo d'inchiesta che è un giornalismo con i lividi addosso, questo non ce lo dobbiamo nascondere, è un giornalismo che si fa anche per passione civile, è un giornalismo che si fa anche per, diciamo, contribuire alla conoscenza, per contribuire all'esercizio della libertà. Però, ecco, questa cosa qui va di pari passo poi con l'aspetto pratico. Io dico che il giornalismo d'inchiesta è anche un giornalismo antiprecarietà, tra virgolette, nel senso che chi fa questo tipo di lavoro e tratta notizie inedite più facilmente avrà la possibilità di lavorare nel campo giornalistico. Poi soprattutto se fai anche video aumenti... Ancora di più, a maggior ragione. Dicevo, nel definire il giornalismo d'inchiesta dicevo notizie inedite o notizie inedite nel senso appunto anche del tutto inedite, inedite anche agli inquirenti, per esempio, oppure notizie in cui si utilizzano punti di vista inediti o si approfondiscono dettagli che non sono stati sviluppati di una notizia edita. Vi faccio qualche esempio. Una notizia assolutamente inedita. Parlo di quello che faccio io perché ne ho conoscenza, non perché non voglio essere, diciamo, autoreferenziale, però so quello che ho fatto e quindi mi viene più facile spiegarvi. Una notizia assolutamente inedita e per esempio io individuai un traffico di droga che avveniva all'interno di dei pesci, di carichi di pesce da Panama verso le coste calabresi, da Panama verso le coste statunitensi. Coinvolti in questo giro c'erano personaggi molto importanti, anche personaggi istituzionali, imprenditori di un certo peso e anche un faccendiere italiano, Walter Lavitola. Fu un'inchiesta, insomma, sviluppai nell'arco di alcuni mesi perché fu necessario verificare tante cose. Nel senso io avevo un testimone ma avevo bisogno di verificare chiaramente le dichiarazioni di questa persona e quindi alla fine riuscì a procurarmi delle mail che queste persone si scambiavano, riuscì a procurarmi le immagini dei sacchetti di cocaina nei filetti di pesce e quindi poi confezionai l'inchiesta. Chiaramente questa era una cosa che probabilmente nemmeno gli inquirenti sapevano tant'è che poi fu interrogata, sono state aperte due inchieste. E questo è un esempio di fatto assolutamente inedito. Una cosa più recente che invece è arrivata da una notizia già edita ma di cui poi ho trattato invece un aspetto inedito e non so se ne avete sentito parlare di queste violenze nei conventi dei suori francescani dell'Immacolata, eccetera, eccetera. Ecco, questa vicenda è una vicenda che era venuta fuori a causa di un'inchiesta della procura di Avellino che aveva evidenziato presunte irregolarità nella gestione economica di alcuni conventi gestiti da questo ordine e questa notizia era venuta fuori su alcuni giornali locali e però si era detto che probabilmente era stato depositato un dossier in cui si faceva cenno ad alcune violenze. Così io mi ero incuriosita. Erano passati anche diversi mesi, insomma, ho detto possibile non è venuto fuori nulla su questo. Cominciai a approfondire questa storia, quindi su una notizia di cui già si sapeva, sono andata a cercarmi questo dossier. Ho trovato il dossier, ho trovato, ho ritracciato suore, frati, poi parliamo di conventi che sono in tutto il mondo, in Sud America, in Inghilterra, in Spagna, oltre che in Italia. E sono riuscita a trovare anche due, perché ce n'erano solo due, finora sono spuntate, due lettere scritte con il sangue dalle suore, una specie di patto che questo, diciamo, capo carismatico che è un frate di questo gruppo avrebbe fatto firmare, avrebbe fatto scrivere e firmare a queste suore. Ho intervistato la suora che materialmente aveva fatto, chiaramente l'ho tutelata, coprendola, eccetera, eccetera, e questi documenti, cioè queste lettere scritte col sangue, sono venute fuori con questo mio lavoro di inchiesta, nel senso che non ce l'aveva nemmeno la procura. Quindi sono riuscita ad approfondire. Questa cosa ha scatenato anche, come dire, un effetto a catena, nel senso che dopo la pubblicazione del primo lavoro, una serie di suore e di frati si sono fatti coraggio e hanno cominciato a denunciare anche loro, infatti ne ho intervistato qualcun altro, è venuta fuori un'altra lettera, eccetera, e c'erano anche delle, ho rintracciato anche una ex suora che si marchiava a fuoco, che si facevano marchiare a fuoco, che c'erano delle penitenze molto forti all'interno di questi conventi. Però ecco, una cosa è a dirle queste cose qua, farle vedere a tutto un altro effetto, no, perché tu fai vedere la lettera scritta col sangue e si vede, fai vedere il marchio a fuoco. Questa inchiesta, oltre a ottenere il risultato di convincere in qualche modo, incoraggiare delle persone a denunciare una serie di violenze, pressioni subite negli anni, è stata anche un'inchiesta che ha avuto un richiamo internazionale fortissimo, è stata riportata dal Guardian, da Independent, da varie testate, adesso non mi ricordo, però almeno 4-5 testate internazionali se ne sono occupate, oltre chiaramente aver dato materiale a tutti gli approfondimenti promoveridiani, che insomma io... Ci hanno campato. Sì, ci hanno campato tantissimo, penso ancora adesso stanno andando in onda con cose, non sempre secondo me, come dire... Invece sono tutti gli ingredienti del noir perfetto anche nel... E quindi ecco come da una notizia edita si riesce, si può riuscire a ricavare qualche cosa di inedito, a proporlo e a capire che magari può avere un mercato. Io vorrei passare un po' agli aspetti pratici di come si fa. Prima però di questo vorrei dire una cosa sui tempi che si collega un po' al fatto anche... Io prima ho detto che è un tipo di giornalismo in qualche modo anti-precarietà. E ho detto anche che è però un tipo di giornalismo che porta i lividi, perché ci sono sempre delle conseguenze, quasi sempre... Più che anti-precarietà è sopravvivenza la precarietà. Dipende da uno... Le conseguenze possono essere nessuna, nessuno ti calcola, può capitare, no? Nessuno ti calcola rispetto a quello che hai fatto. L'apertura di inchieste da parte degli organi inquirenti, ritorsioni che possono essere le minacce normali ma anche la pratica ahimè sempre più diffusa delle azioni giudiziarie temerarie. Cioè ti querelano, ti chiedono, fanno una richiesta di risarcimento danni per fermarti. e quindi le conseguenze diciamo possono essere queste. Chiaramente ci possono essere anche delle conseguenze positive come quelle di vedere risolto un determinato caso. Quest'anno mi è capitato di far tornare una bambina rapita dal padre dall'Egitto non l'ho fatta tornare io. Però io ho talmente rotto le scatole con una serie di... con un'inchiesta e poi con una serie di pezzi che insomma a un certo punto è sembrato inevitabile intervenire su questa... Queste sono cose che però ecco danno a... come dire fanno da contrappeso a tutte le noie a tutte le grane che ci sono in... come conseguenza di questo di questo lavoro. Vittoria vogliamo passare un pochettino agli aspetti pratici? Gli aspetti... Ma questo si svita? Si tiene? No? Devo stare ferma? Non mi posso anche muovere? Mi posso alzare? Però non vale perché io volevo alzare e camminare. Perché io sono irrequieta se stare seduta mi... Vabbè già le differenze Allora intanto sto seduta poi mi alzo così è anche più facile interagire con voi il nostro intento è quello di interagire quindi per favore c'è Giada che ha il microfono Interrompeteci Siccome c'è il live streaming avete bisogno del microfono se volete fare domande noi siamo qui per fare un workshop non per soltanto parlare quindi qualsiasi domanda vi venga in mente fatecela interrompeteci tranquillamente ci siamo un po' divise i compiti il mio è quello di raccontarvi praticamente che cosa accade magari vi viene troverete qualcosa di utile in questo racconto allora partiamo dall'inizio come si propone un'inchiesta ok avete un'idea avete una notizia come la proponete allora la potete proporre innanzitutto guardatevi attorno se volete proporla a un una testata italiana o a una testata straniera ovviamente essendo una platea giovane io vi propongo provate entrambe no cioè almeno provateci con la testata italiana che cosa facciamo troviamo il caporedattore giusto a cui proporla ci prepariamo già un po' di righe capiamo innanzitutto la testata che tipo di di taglio può avere ok che esigenze può avere e che cosa perché ogni vestito va cucito addosso a chi lo porterà per la testata italiana di solito secondo la mia esperienza basta se hai una buona notizia ovviamente non te la devi bruciare allora la difficoltà ce lo dicevamo anche prima dell'inchiesta quando sei un freelance è gli devi far capire che è una cosa molto interessante e che c'è tanto sotto ma non gliela puoi dire tutta altrimenti se la prega magari non se la pregano però siccome non lo sai non te la rischi esatto no guarda ho scene di trasmissione televisive sì ma dimmela adesso per telefono sì vabbè vabbè e di solito con l'italiano è così mandi la mail fai la chiamata perché la mail non sia cestinata ti assicuri che e poi dici posso produrre questo il mio metodo anche di sopravvivenza al precariato come dice Amalia eh Amelia perdonami Amalia Amalia è proporre scritto video documenti se si tratta del web adesso vedremo possiamo proporre cose diverse se si tratta di televisione gli faremo un'idea in 4-5 righe in che consiste la storia e come la vogliamo sviluppare se si tratta dell'online diremo come si sviluppa scritta come si sviluppa con le foto e come con i video le foto se non riuscite a fare come sciva potete estrarle dal video non saranno un granché però giustamente se non vogliono pagare un fotografo si accontentano e documenti altra cosa interessante che si può mettere in chiesta multimediale ma poi lo vedremo anche meglio dopo se volete proporlo agli stranieri preparate il pitching e quindi è la stessa cosa quindi sempre queste 5-6 righe in cui dite di che cosa si tratta però con una maggiore attenzione per far comprendere il contesto sociale perché non è detto che Al Jazeera o CBS News conoscono bene il contesto sociale italiano nel quale è inserita la storia che stiamo proponendo ora all'Italia e poi dite quindi in che cosa in qual è la notizia e poi come si sviluppa gli elementi visivi quello è essenziale per loro perché quando fai un'inchiesta scritta per una testata scritta puoi raccontare qualsiasi cosa la testimonianza il marchio della monaca che in realtà è sotto il vestito non sai se in video te lo farà mai realmente vedere in un reportage scritto lo puoi raccontare se ce l'hai in video è tutta altra cosa quindi fai l'elenco di quello che effettivamente si vede sostanzialmente quello che racconti si deve vedere e la difficoltà è quella c'è una domanda aspetta certo prendi il microfono ti blocco solo perché prima dicevi non bruciatevi l'inchiesta quindi state proponendo a freelance meno dettagli possibili se io poi devo fare una sorta di show come non te la bruci la fonte allora quello che tu hai in mano ce l'hai solo tu magari hai un contatto essenziale una fonte di preferenza non gli dici esattamente qual è è un bilanciarsi ok oppure puoi anche fare questo gli dai il tema di massima l'elemento di forza e poi se sono interessati gli dici ok ti do altri elementi se sono realmente interessati gli stranieri è che la gestione rientra questa cosa molto nella gestione delle fonti perché se tu diciamo riesci a coltivare le tue fonti difficilmente ti preferiranno cioè preferiranno altri a te per cui tu puoi anche dare un'idea di quello che vai a fare dopodiché a me capita spesso fallo fallo tu se puoi farlo ma non perché tu non possa essere in grado di farlo ma perché non hai il rapporto che ho io con quella fonte e a proposito di questo questo è un motivo per cui ecco l'autorevolezza rispetto alle fonti sta molto anche nel fatto di tutelarle sempre e comunque io per esempio più di una volta mi è stato chiesto durante un interrogatorio di rivelare la fonte mi sono sempre a balza del segreto professionale anche quando mi è stato diciamo eh fatto notare che potevo avere delle conseguenze da questo mio atteggiamento però tutto questo ti dà poi la forza di ecco della fonte della notizia di quella di cui parlavo all'inizio no? se tu c'hai una cosa e ce l'hai tu e basta è difficile che le testate non possano interessarsi a quella cosa chiaramente essere un qualcosa di forte allo stesso tempo hai la diciamo tra virgolette il potere di poter dire attenzione non la faccio io non lo so se la fa qualcun altro sì probabilmente o hai addirittura il potere di dire questa cosa ce l'ho solo io e se non la compri tu io immediatamente la do a qualcun altro cioè altra cosa importante per i freelance quando siete proprio in un freelanzato selvaggio cioè adesso noi stiamo lavorando per delle testate in modo un po' più fisso però capita di di dire ok ho bisogno di una risposta entro due giorni altrimenti ti trascinano aspettano vedono nel frattempo la notizia ti scade o subisce delle evoluzioni o magari altra cosa molto importante gli strumenti necessari che cosa vi serve stiamo parlando di giornalismo di inchiesta fatto e prodotto anche da noi quindi una telecamera una telecamera che abbia secondo me deve avere almeno due uscite microfoniche nel senso da poter mettere il collarino su di voi se siete voi stessi che fate le riprese e poi un microfono per l'intervistato un espediente può essere quello di avere un registratore costa un po' anche trovate insomma dei costi anche tu sei registratore no uso i microfoni però mi è capitato di non poter portare per esempio il microfono oppure mi si è rotto in un periodo dice come fai te ne compri un altro che costa mille euro no anche no ci sono dei registratori che hanno dei microfoni stereo a pulce che hanno una qualità ottima glielo attacchi solo che se fai l'intervista devi fare il sync esatto devi fare il check praticamente vabbè non è niente di che però ti scordi se stai facendo anche le domande perché poi un cavalletto o almeno il monopiede è utile il cavalletto può essere utile anche se ti capita addirittura di fare lo stand up te lo metti ti autoinquadri certo non c'è sempre bisogno dello stand up però può essere io non lo uso non compare mai tu non compare mai io no io a volte sì però di solito se proprio devo comparire chiamo l'operatore stand up stand up da sola l'ho fatto raramente e poi che cosa una luce una luce può essere utile di quelle a led piccoline che si mettono sullo scivolino della telecamera perché se fate le riprese di sera quanto meno deve riuscirsi a leggere l'immagine il microfono è inutile dirvelo deve essere buono perché noi facciamo giornalismo e le parole le dichiarazioni sono tutto per noi quindi se una cosa non si sente bene e si sente il rumore del camion che è passato più della voce abbiamo rovinato tutto quindi una cosa su cui vale davvero la pena investire ancora più forse che sulla telecamera è un buon microfono e il collarino se ce l'avete che è la cosiddetta pulce è qualche scheda almeno un paio un paio perché se vai in un posto a me è capitato tante volte in cui magari ci può essere qualcuno che ti chiede che cosa hai girato togli una scheda e gli fammi vedere togli una scheda l'altra ce l'hai in tasca almeno per quello e quanto costa tutto questo? secondo me con una spesa iniziale di 1200 euro ce la si può fare qualcosa lo prendete di seconda mano qualcosa nuovo si può fare oggi esistono comunque delle telecamere che hanno dei posti piccole solo che già il microfono il microfono è una cosa che costa più di tutte però vale la pena va bene detto questo quando tornate a casa dovete avere un computer con un programma di montaggio programma di montaggio inserirete la scheda non si usano più i mini dv come qualche anno fa e i migliori io uso Premiere Pro c'è chi usa Final Cut c'è Avid trovate guardate ci sono i promo di tutti quanti su tutti i siti il mio consiglio è quello di provarli tutti perché tanto sono gratis mi pare per un mese provateli scegliete quello che quello che preferite detto questo quindi quando avete i vostri strumenti avete provato a girare qualcosa sapete già almeno produrre un video da due minuti e mezzo tre minuti potete proporre almeno iniziando da una web tv fino anche a una televisione una vostra inchiesta come proporla lo abbiamo visto dovete cercare di capire verso chi è indirizzata secondo me le testate online sono ottime per poter per poter fare le inchieste e anche quando giri molto sporco di imparare a montare bene hanno meno pretese della televisione in tv ci sono più più richieste riguardo bilanciamenti audio la color correction e tante altre cose quindi è un buon trampolino io stessa ho iniziato con Repubblica con Repubblicare le inchieste nello stesso settore in cui ti trovi tu adesso e le inchieste multimediali hanno il vantaggio di potersi sviluppare con una parte scritta quindi poter scrivere il testo mettere i video magari spezzettati in tante testimonianze allegare una parte dei documenti o i documenti e poi inserire aggiornamenti man mano io feci un'inchiesta che si chiamava vaccinati a morte era sui militari che contraevano malattie autoimmuni e cancro dopo bombardamenti di vaccini quell'inchiesta è durata un anno e mezzo e si è sviluppata in tante puntate e ha portato anche a risultati interessanti è stato bello anche vedere noi poi avevamo interagito con una piattaforma come change.org che a un certo punto dovevo raggiungere il ministero della difesa e quindi l'online ci aiutò ulteriormente perché l'inchiesta online raggiunta anche tramite una piattaforma di petizioni divenne un'inchiesta collettiva quasi e quando andiamo a girare quando andiamo a girare noi partiamo con un'idea di quello che stiamo andando a fare ovviamente abbiamo già sentito delle persone però quindi più o meno abbiamo uno schema mentale se non addirittura scritto di dove andiamo a parare tuttavia quando andiamo a girare dobbiamo sempre adattarci a quello che troviamo quindi partiamo con l'idea io una volta partì con l'idea di andare a girare le mamme di Terzigno che dicevano il rosario alla Madonna di Pompei contro la discarica e poi alla fine realizzai una storia completamente diversa sul vivere sotto la discarica e arrivate sul posto innanzitutto le persone pensate già a chi osserverà l'inchiesta hanno bisogno di capire dove si trovano quindi mai tralasciare le immagini che riguardano l'ambiente dove ci troviamo in che modo i dettagli i dettagli che poi diventano significativi girare tante coperture è essenziale vi serviranno tantissimo la cosa più brutta è vedere le inchieste anche sul web o le interviste con solo il pacione tagliato con l'accetta i dettagli saranno utilissimi in questo senso e poi inizierete con le interviste sulle interviste quando una persona dice qualcosa deve mostrarla sostanzialmente la forza della video inchiesta è quella cioè fare l'intervista seduti all'interno di una cucina in cui c'è ok il viso e la voce della persona ci ha messo la faccia va bene però avrei potuto risolverla con una fotografia è un pezzo scritto se sto facendo un video e la persona mi parla di un abuso edilizio io voglio stare in mezzo all'abuso edilizio con quella persona anche se si tratta poi di scavalcare o a quanto meno vicino se mi dici che c'è stata una nuova ferrovia non me lo devi solo dire mi devi portare lì e dire vedi le rotaie questo farà la differenza in quello che girerete poi quelli sono gli elementi visivi che anche soprattutto gli stranieri chiederanno ed è per questo che quando si dice l'inchiesta si fa sul campo sul campo può essere come ci dicevamo prima anche davanti a un computer se si fanno delle cose per cui è necessaria una ricerca ma andare sui posti parlare con la gente anche mostrare cioè io per esempio ho fatto tante cose sull'ambiente io ho toccato le peggiori schifezze ho messo chi lo dici sono stata le discariche di mezza Italia ho fatto vedere l'acqua rossa in Toscana qua in Umbria non ne parliamo proprio di quello mi sono addirittura calata in una centrale antiatomica per far vedere che cosa c'era dentro perché non si sapeva bene per farlo vedere quella volta veramente al buio perché non non sapevo che cosa avrei trovato era tutto strada facendo e ci fu necessaria una preparazione però andare sul posto ecco questo attingendo alle regole basilari che è la cronaca sostanzialmente purtroppo molte volte oggigiorno come funziona i giornalisti assunti in redazione stanno prevalentemente al desk stanno fermi al desk e hanno difficoltà a muoversi e anche a perdere tempo per calarsi appunto nel cuore di una centrale o andare in mezzo a una discarica e anche il desk serve il desk è coordinamento se fatto bene è essenziale però quando ti dico una cosa quando per esempio realizzo una video inchiesta anche di grosso impatto se non ho il titolo buono l'impaginazione buona serve a me mi devi credere tu puoi avere la notizia più forte del mondo e poi come diciamo noi a Napoli te la schiappano cioè te la mettono in un sottotraccia non bene a fuoco con un titolo sbagliato o con un titolo non efficace tu hai perso buona parte del lavoro che hai fatto per questo io non sono una di quelle che sono competenze differenti io il desk non lo potrei mai fare l'ho fatto in passo ho fatto delle cose ma non è proprio nelle mie corde però invece c'è tanta gente tanti colleghi bravi che al desk sono in grado di supportarti e che magari ecco anche mentre sei sul campo ti possono dare una mano con una ricerca con un numero di telefono quello è il vero desk può capitare di dover ricorrere a chi sta in redazione quindi voglio dire non è che si è giornalisti solo se si va a fare sul campo delle cose ci sono vari settori poi ecco bisogna capire quello che ti interessa fare sostanzialmente ora i giornali hanno difficoltà ad assumere o a continuare ad assumere quindi che cosa succede che quelli vecchi che sono stati assunti prima che hanno esperienza ha anche una razza il fatto che siano al desk le persone del desk non possono essere freelance devono essere per forza assunte quindi è ovvio che per la maggior parte le persone con un contratto io non credo che sia ovvio diciamo la verità non dovrebbe essere così perché in realtà chi fa le inchieste dovrebbe essere tutelato e assunto con tutti i rischi che ti prendi anche legali sì però noi stiamo parlando della realtà non dell'ideale adesso quindi un'altra utilità grandissima del desk poi tu ti trovi dalla redazione dall'altra parte del telefono persone anche molto diverse io almeno quando finisco di girare se ho una persona brava e competente che stimo dall'altra parte appena finisco di girare alzo il telefono il mio schemino che cosa a memoria senza riguardare neanche il girato perché poi tante volte mentre giri dici oddio con questo ci attacco questo è l'inizio del pezzo uno ti ha detto una frase oppure questo è il finale lo senti te lo butti giù sul tuo taccuino ti fai lo schemetto diciamo dello script dello scheletro e poi chiami la persona brava al desk e dici senti che hai trovato ho trovato questo questo sei ancora un po' piena della gente di quello che ti hanno riversato addosso ti hanno raccontato i fatti loro anche personali sei un po' piena fai un brainstorming e se c'è una brava persona dall'altra parte ti aiuta a riordinare le idee e quando attacchi il telefono hai tutto chiaro butti giù lo script cosa essenziale almeno lo schema che significa almeno per me dire il pezzo inizia con la donna che dice questo quest'altro poi c'è la mia voice over in cui spiego le cose e poi piano piano fino alla conclusione il pezzo è scritto in pratica prima di montarlo perché anche dalla redazione devono approvarlo lo guarderanno mi tutelo anche per non far durare il montaggio tre giorni di sangue e lacrime nel momento in cui lo script è approvato puoi montare gli mandi un grezzo di solito almeno io faccio così faccio un grezzo senza copertura in cui ci sono le voci la voice over senza le coperture la voice over con il nero le voci tagliate grezze però bene che si sentano senza la musica caricate su youtube non indicizzato in bassa risoluzione come un link privato se lo guardano al volo e mi dicono ok così può andare oppure no questo non mi piace questo non mi rende quello spostalo nel momento in cui l'assetto è fatto si può coprire e poi in realtà poi lì diventa il racconto quando copri metti anche la musica in modo tale che la musica e le coperture si muovano assieme con con ritmo un po' a proposito della musica a proposito della musica non sempre le testate giornalistiche hanno degli accordi con la SIAE non solo ma ci sono comunque sempre i diritti di sincronizzazione che sono i diritti particolari per esempio facciamo finta che io mi innamoro di una canzone di Pinco Pallo Pinco Pallo può pure svegliarti e dire no ma io una roba mia non la voglio mettere sotto sta cosa che stai trattando e questi sono diciamo per spiegare terra terra i diritti di sincronizzazione quindi anche eventualmente c'è chi dice che mettendo musica cioè si fa un po' di retorica si rovina magari dipende dallo stile quale musica però no io per esempio amo molto mettere la musica nelle mie a volte sottolinea bene quello che che faccio in genere viene viene apprezzato io preferisco ci sono secondo me però delle cose dove la musica non va messa il racconto della suora cosa del sangue assolutamente non ho messo la musica ci sono altre cose su cui non va messa perché è opportuno sentire i rumori d'ambiente qualche settimana fa ho pubblicato questa video inchiesta sui baby boss ma ho cercato di far capire chi sono questi qua e quindi mi sono andata a prendere dopo essermi sentita circa otto ore di intercettazioni ho selezionato alcune intercettazioni e che cosa è venuto fuori che mentre preparavano un omicidio c'era questa bambina figlia di uno di loro che giocava e quindi tu senti tutte le fasi dell'omicidio questa bambina che gioca e chiaramente ti dà un'altra idea ti dà una forza differente è chiaro che là non gliela puoi mettere la musica perché devi far sentire quello che accade oppure a volte ecco quando devi mostrare dei documenti pezzi di ordinanze intercettazioni e altre cose resteresti senza e soprattutto se non ami usare il voice over quindi è affidato alla lettura la comprensione del appunto del fatto del commento eccetera la musica può essere d'aiuto per non lasciare il voto quindi ripeto è una questione di stile una questione dipende anche dalla testata anche lì può dipendere dal servizio stesso dalla testata ad esempio lei adesso diceva il voice over anch'io non amo troppo i voice over però quando sono arrivata alla sette me l'hanno chiesto quindi e a volte mi chiedono anche di fare lo stand up vai in video fai le domande tu quindi se te lo chiedono lo fai la musica lì per esempio hanno tutta una policy sulle musiche rock inglese ritmato ciascuno ai propri gusti il proprio pubblico è ovvio che devi cercare di non sfociare nella retorica e quindi che ne so se faccio l'inchiesta sulle prostitute tutta una cosa legata ai trans eccetera non ci metto Roxanne magari ci metto un'altra cosa cercare di non essere scontata a volte puoi mettere una musica allegrissima un po' leziosa su una cosa schifosa drammatica pesante ci può stare è come un vestito no? puoi metterne uno pacchiano e puoi metterne uno di classe un elemento che secondo me è importante dire visto che parliamo di inchiesta giornalistica siccome spesso l'inchiesta giornalistica si fonda su atti giudiziari quali sono i documenti che possiamo pubblicare? come li possiamo pubblicare? allora in generale io direi che i documenti che vengono depositati gli atti giudiziari che sono depositati possono essere pubblicati chiaramente non bisogna coprire dati sensibili eccetera eccetera a volte mi è capitato anche di pubblicare documenti di indagine mentre un'indagine era in corso ecco questo diciamo che in generale non si potrebbe fare se pensate a mafia capitale ci sono stati dei colleghi una novantina di colleghi denunciati perché avevano pubblicato atti di un'inchiesta in corso secondo me pretestuosa ma comunque voglio dire era una cosa che non credo abbia esattamente un rilievo penale ma ha un rilievo disciplinare perché poi questa cosa va comunicata al non so se al consiglio disciplina o all'ordine giornalisti perché mi pare il consiglio disciplina è uscito adesso dalla gestione dell'ordine giornalisti e però ecco in quel caso lì gli avvocati la camera penale aveva detto avete pubblicato atti in mentre l'indagine era in corso a questa cosa si può ovviare per esempio se io ho un documento basta che non riporti esattamente le parole il virgolettato eccetera eccetera ma posso dare l'idea di quello che è il documento diciamo che può essere almeno io utilizzo questa scappatoia è chiaro che sta poi nella coscienza anche del giornalista non rovinare l'indagine di nessuno né interferire appunto con con gli organi giudiziari però quando c'è una notizia che è di interesse pubblico e soprattutto non crea nessun pregiudizio alle indagini io sono una di quelle che pensa che vada assolutamente vadano assolutamente pubblicate così pure le intercettazioni ecco io per le video inchieste preferisco utilizzare quelle audio se le ho a disposizione se riesco ad ottenerle altrimenti mostro quelle appunto che sono che sono su carta io qualche volta ho fatto le ricostruzioni io cerco di non questo per esempio è un aspetto che io non però ripeto è questione di stile dipende sempre dalla testata che però ah un'altra cosa le telecamere nascoste c'è lei che volevano interviene volevo farti una domanda sulla telecamera ecco ci siamo ti ho sentita domanda a te però se posso farla subito perché si lega a questo al di là degli aspetti tecnici proprio da un punto di vista concettuale visto che talvolta l'inchiesta porta ad un'indagine della magistratura quando invece non so tu stai lavorando ad un'inchiesta e poi ti rendi conto che pure la magistratura stava indagando e magari rischi a quel punto di fare solo cronaca giudiziaria e di raccontare solo quello che stanno facendo loro oppure quando la tua inchiesta deve partire direttamente da una cosa che già sta facendo la magistratura è sempre inchiesta o ti rischi di bruciare il lavoro la notizia è edita o inedita per me la domanda è quella io ragiono sulla notizia e basta mi rendo conto terra terra ma per me la notizia è il titolo che titolo mi dà però può essere edita la notizia che a me è successo recentemente stavo lavorando ad una cosa due settimane insomma un po' di tempo dopo hanno arrestato dieci persone edita la notizia che abbiano arrestato dieci persone che facevano una determinata cosa però tutto il contesto che io volevo ricostruire con una mia inchiesta che è lunga ed è più dettagliato ovviamente del semplice articolo di cronaca che è uscito dopo l'azione della magistratura quello no non è edito e quindi è capito adesso mi devo comunque in qualche modo agganciare se tu riesci a trovare per esempio un aspetto che è interessante dal quale partire e che non è stato molto sviluppato lo fai perché voglio dire sì ci sono stati gli ulteriori dettagli no? ok grazie lì in fondo ah ok forse ci sta dicendo che ci abbiamo sbagliato un'ultima cosa forse vi può interessare sull'uso delle telecamere nascoste allora ah sì c'è una domanda vai vai io avevo questa domanda si parlava appunto del fatto di freelance che appunto decidono di realizzare un'inchiesta io avevo una domanda a livello di autorizzazioni cioè facciamo un esempio di una situazione tipo sono un freelance che ha intenzione di fare un'inchiesta per quanto riguarda perché gli è giunta voce ma non confermata di un traffico di droga in una scuola e voglio realizzare un'inchiesta in video però ancora non l'ho proposta a una testata non ho una testata alle spalle e avrei bisogno appunto di fare una richiesta di autorizzazione per poter fare le riprese all'interno dell'istituto però chiaramente un direttore aspetta aspetta un attimo mi è giunta voce ma non confermata no primo verifica la fonte e non c'è bisogno di fare le riprese per verificare le cose tu puoi fare tutta l'inchiesta senza girare nulla poi magari no ma fermo restando la scuola non ti faranno mai fare le riprese le riprese ci sono i minorenni ti sei andato proprio a incasinare con poi la preside non ti dirà mai di sì però non fa niente magari puoi arrivare puoi fare in un'altra maniera era comunque un esempio per fare questa domanda però io se fossi un caporedattore e mi arrivi tu e mi dici mi è giunta voce ma non confermata io ti dico no grazie ma che ci faccio ma una testata seria non prende una voce tu mi dici tizio Caio o anche proteggendola queste sono le prove questi sono i documenti quello va bene ok quindi prima di girare devi avere tutte le prove di tutto e infatti io adesso sto facendo un'inchiesta per un'altra testata ancora sono un mese e mezzo che ci sto lavorando una cosa importante per me a rischio mio sto sentendo tutte le fonti sto incontrando le persone non ho girato neanche un minuto scrivo papielli su papielli di appunti ogni volta poi chiamo la redazione e dico ho trovato questo quest'altro questo dice sì orientiamoci però più verso di l'audio poi girerò anche perché se quella la giro magari chiamo il cameraman e ci rimetto pure i soldi dell'operatore sì ma se non ho ancora contattato la testata per avere le autorizzazioni no tu prima trova la storia trova le prove trova le fonti poi chiami la testata va bene ok grazie ci dobbiamo brigare telecamera un'ultima cosa sulle telecamere nascoste che ci chiedono allora diremo ciascuna la propria opinione non le amo molto neanche io a volte sono necessarie esatto così un uso indiscriminato della telecamera nascosta secondo me controproducente è chiaro che se tu incontri però delle persone per esempio anche dei delinquenti anche dei delinquenti potrebbero essere delle fonti e bisogno di avere delle informazioni che giustifichino il lavoro che stai facendo e allora lì io credo che la telecamera nascosta sia un mezzo interessante è chiaro che anche in quel caso hai il dovere di proteggere quella fonte anche se quella fonte diciamo però l'intervista in genere è un mezzo che si usa con un interlocutore che sa che tu stai facendo delle domande quindi e poi ragazzi da freelance no cioè io vi leggerei la chat che c'è tra noi inviati anche alla sette ogni tanto ci chiediamo fra noi ma che mi succede mi hanno chiesto dalla redazione le cose magari te le chiedono però poi chi ci rimette soprattutto se non hai copertura legale perché un altro capitolo che lei ben conosce è che molte volte le testate non ti danno la copertura legale per quello che stai facendo allora o vi fate un'assicurazione l'assicurazione costa o prima di fare una cosa del genere ci pensate tanto la telecamera nascosta se non è strettamente necessaria essenziale secondo me non è neanche etica proprio quindi anche se fa molto vi facciamo vedere dal buco della serratura questa cosa vichissima ci dobbiamo fermare ci dobbiamo fermare va bene sulla tutela legale sulle questioni dell'attacco al giornalismo parleremo domani in un appuntamento alle 15.30 dove ci saranno secondo me dei colleghi interessanti a dire delle cose sul tema grazie grazie a tutti ciao ciao ciao